eccola qui che si è guadagnata un bonus per il gabione stanotte tremenda allora mi ha chiamato la gentile proprietaria di silve cosa fate che baffi era da lei così prendi parti da casa valla a prendere e riportala nell'oasi stanotte se ne sta nel gabione poi guardiamo il da farsi nei prossimi giorni che tipa colgo l'occasione per mettere un po a posto le lampadine qua vabbè ragazzi io sto ancora un po qua c'è una pace meravigliosa però uno avrebbe anche voluto stare in pigiama a casa no le teste tu leo fai un po il bravo tu sei un attepista sei veramente un attepista adesso stanotte te ne stai qua dentro va bene buonanotte a tutti io stai qua dentro